tu potrai dire il cazzo che vuoi ma ricorda di queste mie parole è cento volte meglio questa roba che le cacate che passiamo noi alla torta è sicuramente che anzi no che tre quarti delle cacate ma non è di quelle che stiamo parlando no 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 però per dire capito tutto sommato c'è da una bandola a questo livello internazionale ti aspetteresti dei brani della madonna ma chi è che ti sta a fare i brani della madonna chi è la band che adesso ad oggi i cazzo ti stanno a fare i pezzi della madonna e i cdc chi è che ti sta a fare i pezzi della madonna ormai io me lo aspetto da una band nuova e te spera perché questo è ormai per vendere per fare di fare questo perché quello che vogliamo noi è in passato non c'è un cazzo da fare uno stile vecchio di fare radio di fare musica e adesso è questo guarda qua che belle le vecchie qua che di lì